Colpo Roma dalla Fiorentina in arrivo, vere tu! Ciao ragazzi bentornati in questo nuovissimo video nel quale volevo parlarvi dell'acquisto di Petrachi però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace e un commento e poi se volete anche un'iscrizione al canale sono veramente contento, è un giocatore che volevo fortemente a Roma e non viene pagato neanche tanto 17 milioni più 2 di bonus, visto che le richieste della Fiorentina erano di 25 a 25 nulla avrei preso, ma chiudere per 19 milioni totali per me è un vero e proprio colpaccio perché comunque è un giocatore veramente molto giovane che già si è adattato al nostro campionato che conosce bene o male il 4-2-3-1 e il 4-3-3 che sono i due moduli che predilige Fonseca e che soprattutto non è che abbia chiesto tanto d'ingaggio e quindi non crea neanche problemi all'interno dello spogliatoio problemi che probabilmente avrebbe creato Seri, che per me è fortissimo però ha avanzato le richieste di ingaggio veramente veramente importanti e fuori portata per le casse della Roma visto che in Inghilterra lo hanno praticamente riempito di soldi sono contento, senza alcun dubbio ragazzi per me è un colpaccio adesso vediamo, comunque per adesso, per il momento Petrachi sta costruendo una squadra con intelligenza ovvio, mancano almeno tre giocatori, due per forza, ovvero un esterno d'attacco e un difensore centrale e poi, qualora dovesse partire Dzeko, anche il centramanti mi auguro che questi tre nomi siano Bailey, Higuain e Alderweireld sarebbe veramente il top, so che è molto molto difficile ma spero almeno che Alderweireld e Higuain arrivino poi per l'esterno ci possiamo anche adattare, possiamo prendere Brahimi che a zero sarebbe un affare, perché comunque è un giocatore forte anche lui ha esperienza e potrebbe preferire la Serie A al campionato turco visto che ha richieste da Fenerbahce, Galatasaray e un po' tutte queste squadre qui e ragazzi, come detto, sono contento di avere tu è sempre stato il mio pupillo, ve lo dissi anche un paio di state fa dopo le prime partite alla Fiorentina, mi ricordo dopo la rete all'Ellas Verona che per me sarebbe stato un futuro crack del calcio italiano ecco, crack ancora non lo è diventato ma lo potrebbe diventare sotto la guida di Fonseca me lo auguro e penso, se lo augurino, tutti i tifosi romanisti speriamo bene ragazzi comunque, accanto a Diavara, per me e Cristanto ovviamente potrà formare un ottimo centrocampo un zonzino a questo punto va assolutamente ceduto non può tenere un giocatore che ha tutto questo ingaggio molto pesante e che soprattutto non crea benefici alla squadra perché anche nelle prime partitelle è sembrato fortemente l'imbarazzo con un calcio troppo, troppo, troppo veloce come quello di Fonseca lasciate un mi piace e un commento ed iscrivetevi al canale ciao a tutti